3 gradi alla bocca verso destra piano piano io mi chiamo qua per mangiarci la torta no ma temporeggiavo così si raffurezza bene a tempo anche di scadere la fata che è quella bimba bellissima due bimba bellissime allora sabrina silenzio parla un po' più ad alta voce ma oggi siamo tutti qui per dire grazie a Mirena perché ha fatto tante cose per me e la parola di grazia non basta per me perché una persona veramente preziosa ma io c'è un po' più ad alta voce ma io c'è un po' più ad alta voce ma io c'è un po' più ad alta voce bravo 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 non vediamo l'ora di distruggere qualcosa di bello bravo lascino qual è la� lauran che taglia la torta finito Non ci pagliavano. Occhio, c'è un bizarrito il cavallo. Occhio, occhio, occhio. Occhio, occhio. Chi ha fatto? Chi ha fatto? Chi ha fatto? Chi ha fatto? Perciò che è un grande? Chi ha fatto? e tutti i maschietti dove sono? non tutti a lavorare metti un piedino due giorni, dai, 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 l'altro, ma che egoistiche siete, sono che vuole darmi un piedino, sono un piedino, ne metto un altro, ti presto il mio puzzolente, ma tienilo pure, grazie, grazie, guarda, tappa la bocca ai nostri amici qua dalle spalle, e quando mi tocco le schiaccia di nette c'è la nuvola, cuscino, dai, mi imprezzi quel piedino l'avo 某 peggio, che vuole quella grande poche, così muerde e figura, sharkoff ora vuoi? ok, fognia la pazzola e la p �entry fognia, e la pazzola ma stai diffondendo sì, effettivamente, un po' tanta, possiamo mangiare il pieve? sì, sì, cioè, un pazzone un pazzone dai, tu ma gioco questa volta cosa vuoi, Matti? non vuoi la torta, Matti? Ma perché continua a sanguinare così? Ha più peso adesso! No, prendi un pezzettino e ci sputi quello che fa. Beh, guarda, è bellissimo. Ti fa impressione? Ma no, no. Per disinfettarla. Io non me la faccio. Nadia, ho la tua foto in comune. Già, c'è centenaia di foto di me. Lei è diventata una diva. Grazie.